Cambiamento, crescita e innovazione. Tre parole per tre binari su cui in un decennio è corsa la costruzione dell'identità di Vallefoglia. Dieci anni e due mandati che oggi il sindaco Palmierocchielli ha tracciato in un bilancio nel suo municipio verso l'avvicinarsi di una bandiera a scacchi di un lavoro colossale condiviso con tutta la giunta riunita al gran completo per l'occasione. Abbiamo dovuto costruire una nuova identità di Vallefoglia, abbiamo dovuto lavorare per servirsi di qualità alla città di Vallefoglia a cominciare dalle scuole, dagli impianti sportivi, dal nido e diciamo che oggi Vallefoglia c'è, c'è con una posizione importante, centrale che ci ha consentito di realizzare le opere fondamentali che la gente aspettava. Dieci anni soprattutto di grandi opere passate in rassegna dal sindaco, dalla casa della salute al depuratore, passando per le grandi opere di metanizzazione, asfaltature, illuminazione e tanti interventi all'insegna dell'efficientamento energetico e dell'ecosostenibilità. E' ancora nuovo municipio, nuove piazze, nuove scuole, due teatri e una grande crescita nei rapporti internazionali. Questa la grossa eredità che si lascia al prossimo quinquennio amministrativo. Chi però dalla giornata si aspettava una esternazione di ucchielli sull'ufficialità di una nuova candidatura ha trovato solo un cauto e possibilistico temporeggiare. Le regole intanto sono importanti perché è stata approvata una legge sia al Senato che alla Camera che consente sotto 15.000 abitanti di poter fare il terzo mandato. E quindi Vallefoglia, in base all'ultimo censimento, è sotto 15.000 abitanti, però aspetto il decreto. E poi, insomma, senti anche se c'è un calore, una larga opinione pubblica che pensa che puoi continuare a fare del bene alla città di Vallefoglia e a quel punto ho anche le feste di Pasqua. Quindi sentirò la famiglia, sentirò gli amici. Tutti i miei colleghi della maggioranza mi chiedono di ricandidarmi. Io valduterò molto attentamente. Io sono uno che va a velocità supersonica, ma sulle cose complicate è bene pensarci bene. Nel senso che tutto il lavoro che ho fatto, anzi, coigo l'occasione per ringraziare la mia famiglia, mia moglie, le figlie, eccetera, gli amici, perché fare la politica con serietà, servire un territorio e una comunità è anche molto massacrante e sacrifichi le cose più care, che sono la famiglia, che sono quelli che stanno attorno a te. Però la politica è una passione e va fatta con missione.